www.feyyaz.com ti sei più grande chi si mette dietro infatti sì sì pure me sì io ho detto io ho detto infatti capiamo roberto che parte si mette roberto rimani a sinistra oh marco bravo 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 siamo fermi ma non stavo mai torna 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 quattro cinque così sa bravo 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 c'è là il piede Occhio Gimbe sta davanti Benissimo L'hai fatto Bravo Come Mertensi adesso infatti Vabbè Vai la sono Siete due Siete due Siete due Siamo Grande Bravissimo Bravo E' maturo Ma Occhio Bravo 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 Dai 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 risalite risalite Sì Sì E' qua uno eh Secondo Lecce Eh Guarda che Questa sembri bobovieri robè ascolta non ha tornato marco fa sto sforzo dai bravo 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 sali salta solo tira Marco tira 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 tira